Le linguine sono già giù, il pomodoro pesco, il pomodoro è stellato? Sì, bisogna metterla fuori, è stellato, è fatta la polpa del pomodoro, fantastico, qui abbiamo solo la polpa, la polpa, e poi si mette il pesco, tutto già spezzettato e tutto guinistato, il riscato, tutto avrà un po' il stress, si, è velocissimo, e poi si annunce, e qui abbiamo la pastina di sale, e si fa un po' più per circa 5 minuti, in maniera che il tempo che facciano praticamente gli spaghetti, si, gli spaghetti che va poi leggermente al vino. Ma qual è la pasta indicata? Sì, come mi piace, perché essendo ragù di pesce la danno con un po' di pasta, sia corta come giù. Io sceglierei un rimaschero, allora. Ci sta bene il pacchero, ci sta bene la wisina, sta bene la spaghetti, addiricura ci sta bene anche la pasta fiesta, la noiccia, la maltagliata, si potrebbe fare anche con la maltagliata. Grazie a tutti.